Sono passato dal silenzio dei boschi al marasma dei mercati di rivolta. Ora io sto zitto ma sentirete delle parole che non sono niente. Io devo però quello che mi fa comodo, lo so ma è raffegnato, ce ne sono ancora ma ce ne vuoi. Io sono venuto via le funghi che non stavo ancora trovando perché c'è chi non lo aveva neanche. Anche per pochi lo trovavo io, però questo è un bellissimo banca comunque, è il top in materia micologica, settembre, ottobrina, fra poi novembrina. Arrivederci per il momento ragazzi, a presto. Guardate la varietà di colori, la meraviglia, questo è il mercato all'aperto, più importante è il mercato. Si chiama Piazza Cavallotti. Felice Cavallotti è stato un martire. Noterente sempre di più delle facce dei proprietari dei boschi che non sono chiaramente italiane. non sono chiaramente italiane. Le macchie sono da regate, c'è di tutto. Mi rendete conto? Il mio silenzio nei boschi di Baricone. In questo caso qui, cassino la confusione. Ora mi fermo a prendere un paio di malagrani. Salute i nostri amici. Arrivederci e va. Grazie.